A proposito degli amici che sono sempre di martedì, Marco Travaglio mi ha appena dato il suo nuovo libro, pregandomi, visto che oggi lui non c'è, dimostrarvelo qui. Eccolo qui, è il Cama su Travaglio. È il libro delle posizioni consigliate da Travaglio per raggiungere il massimo piacere. Vi leggo alcune posizioni in sequenza. Posizione 1, insultare Berlusconi. Posizione 2, delegittimare Berlusconi. Posizione 3, sputtanare Berlusconi. La 4, inquisire Berlusconi. Ridere a giudizio Berlusconi. Processare Berlusconi. Insomma, sono tutte le posizioni.